Sono state messe in luce 13 tombe nella parte esterna della chiesa, sono state ritrovate le scalette di accesso all'ambiente della cripta e poi sono state trovate queste terracotte architettoniche di epoca tardo-etrusca che appunto costituiscono anche lo stimolo per proseguire le indagini. Proseguono le indagini archeologiche nel sito della chiesa di San Donato in Cremona all'interno della fortezza di Arezzo che continua a stupire. In particolar modo adesso si sono conclusi gli interventi di scannerizzazione e restituzione in 3D della chiesa, un intervento finanziato direttamente dall'amministrazione comunale per l'importo complessivo di 123.000 euro, ovviamente con la sorveglianza e il coordinamento scientifico della soprintendenza archeologica. Questo rilievo che è stato fatto grazie ai droni con delle ortofoto che verranno ricostruite e daranno un modello in 3D. Questo servirà per catalogare, scienziare i lavori fatti fino ad oggi. Poi nel prossimo futuro vediamo in seguito alla catalogazione di tutti i reperti che sono stati trovati, agli studi che farà la sovrintendenza, se e come andare avanti. Abbiamo partecipato con il drone per fare l'acquisizione fotogrammetrica che servirà poi a essere unita al modello che hanno fatto con l'ase scanner e quindi produrre ortofoto e modello 3D. E da adesso si procede con la messa in sicurezza degli scavi. Con del materiale idoneo, ovvero con del tessuto o non tessuto, fissato poi adeguatamente con del materiale lapideo e poi ricoperto con della sabbia, ma che possa poi essere rimosso con facilità, quindi preservare ma essere rimosso con facilità successivamente per eventuali interventi successivi nel tempo.